ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rock politics è stata una settimana molto intensa sul piano politico i cittadini italiani sono stati chiamati a votare per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari per le elezioni regionali e per le elezioni comunali ecco è arrivato il momento dei bilanci perché con la vittoria del sì al referendum c'è stato un passo importante nel in italia in quanto si è deciso finalmente per quelli che hanno votato sì e sfortunatamente per quelli che hanno votato no di tagliare sostanzialmente i nostri i nostri parlamentari la camera dei deputati passano da 630 a 400 i senatori passano da 315 a 200 ecco però non mi soffermerai tanto sul referendum un referendum che aveva un risultato già scritto mi soffermerai soprattutto sulle elezioni regionali sulle elezioni comunali ecco perché i risultati che sono usciti da queste elezioni ci fanno capire che gli italiani hanno deciso di non cambiare ora come ora hanno deciso di proseguire verso questa strada quando la situazione in questo momento è difficile hanno deciso di non stravolgere le dinamiche politiche ecco la maggioranza esce forte le opposizioni anche rimangono solide soprattutto la figura di giorgia meloni che continua crescita rimane molto solida e che è riuscita nell'unica sorpresa sia quella di conquistare le marche regione storicamente di centro sinistra con la lista di acquaroli in toscana in puglia il centro sinistra è riuscito a evitare una figuraccia e questo ha rafforzato anche la figura di zingaretti chi invece ha fatto una figuraccia sono sicuramente renzi e berlusconi che hanno hanno registrato delle percentuali veramente basse a questa tornata elettorale salvini anche ha avuto su questo c'è un forte dibattito perché salvini comunque è riuscito a conquistare due regioni tra cui la valle d'aosta e il veneto il veneto con oltre 70 per cento ma è sempre tartassato dall'ombra di luca zaia e comunque anche dalla magistratura e dai media ecco secondo me gli unici politici che hanno una figura istituzionale forte in questo momento come ho già ripetuto molte volte sono giorgia meloni e giuseppe conte ecco secondo me le prossime elezioni saranno giocate da loro due due personaggi politici molto intriganti e molto forti che molto probabilmente secondo me riusciranno a trovare una quadra per le prossime elezioni tra loro due per un prossimo inciucio tra virgolette adesso mi soffermerei anche su canavese soprattutto sulle elezioni comunali in castellamonte perché rispecchiano diciamo quel quel senso di non cambiamento e di stare al sicuro ecco che anticipavo all'inizio ha vinto pasquale mazza contro di unigi bartoli e nella falletti è stata una vittoria sorprendente come ripetuto anche da dal sindaco mazza nelle post nel post delle elezioni sorprendente perché le percentuali sono state veramente molto alte le sue e ci si aspettava molto di più dalla lista di unigi bartoli che però comunque essendo la sua prima candidatura non ha per niente sfigurato e sicuramente per le prossime elezioni avrà molte chance di vittoria poi ha giocato un brutto scherzo anche il fatto che ci sia stato poco tempo per organizzare la campagna elettorale il fatto che la campagna elettorale si è dovuta organizzare d'estate e il fatto anche soprattutto che stiamo vivendo un momento difficile dopo dopo il coronavirus anzi attualmente è un momento difficile complimenti anche a la signora falletti che è riuscita a prendere delle buone percentuali intorno al 37 per cento che comunque i cittadini di castellamonte hanno riconfermato due figure ormai già note questo perché secondo me c'è il senso in questo momento di stare al sicuro di non provare qualcosa di nuovo e di cercare di non stravolgere tutti i piani ma di continuare su questa strada anche perché bene o male si sta seguendo la strada giusta in questo momento speriamo solo che questa idea di non cambiamento di non cambiare cambi in cannavese anche perché in cannavese molto probabilmente le percentuali del no sono state più alte rispetto da altre parti d'italia quindi ora come ora prendiamo questa questa tornata elettorale così come come è venuta e puntiamo in futuro a cambiare passo dopo passo piano piano grazie a tutti per l'attenzione ci vediamo la prossima puntata